Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello Anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più Come un vecchio ritornello, anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai Benvenuti ad Antenna 2 e benvenuto all'ospite di questa puntata di Incolce a 2 Il nostro ospite, al quale diamo il nostro affettuoso benvenuto, è Don Gianni di Loreto Grazie Don Gianni per essere qui Chi è Don Gianni? È nato ad Avezzano nel 1968 È stato ordinato sacerdote il 2 maggio 1993 in San Pietro a Roma Ed è parroco attualmente di Santa Maria Assunta al Tufello a Roma dal 2005 Che cosa è il Tufello? È un agglomerato di case popolari Interamente composto da case popolari Che adesso però si sta lievemente espandendo per la vicinanza col grandissimo centro commerciale Porta di Roma Vigne Nuove, Bufalotta Quanti sono gli abitanti della parrocchia? Circa 25 mila Una città come Sturmona Per Roma una parrocchia Piccola Media Media Parliamo di questo tuo rapporto con questa parrocchia So per esempio che hai portato la messa nei cortili delle abitazioni Beh ma al Tufello da tantissimi anni si celebra la Madonna Pellegrina Durante il mese di maggio si porta la statua nei vari cortili e allora anche qualche volta a ottobre ho approfittato per poi porre in rilievo la celebrazione eucaristica in mezzo alla gente uscendo dalla chiesa E usate mezzi moderni per esempio usate internet Ancora non siamo riusciti a fare un sito della nostra parrocchia nonostante tutte le agevolazioni del vicariato Però abbiamo il collegamento per il centro giovanile che abbiamo aperto il 31 gennaio saranno due anni fa Da quando è che manchi da Avezzano? Fisso da tanti anni Altrimenti ritorno tutte le stati per un po' di vacanza per stare vicino ai genitori E quali studi hai compiuto? Classici e poi filosofia e teologia Il liceo classico ad Avezzano? Sì purtroppo solo i primi due anni del ginnasi Chi erano i tuoi insegnanti? Qui la Marco Tullio Poi una professoressa dell'Aquila, quella di lettere La Bizzarri di Francese Al liceo avrei avuto Letta, Ticino, tutti quelli famosi E il tuo insegnante di religione chi era? Se non sbaglio padre Mariano di Pietracquaria Coadiuvato però con Don Vincenzo Amendola E i tuoi compagni di classe? Veramente ne ricordo parecchi durante un po' tutti gli anni scolastici Da Alessandro Seritti alle elementari Roberto Corona alle medie E poi al liceo Lorenzo Giffi, Domenico Eligi Senti, quando è che hai capito che la tua strada ti portava verso il sacerdozio? Io già alle medie facendo il chirico ad Avezzano alla cattedrale E poi seguendo un po' con gioia l'azione cattolica con Don Gerasimo e Don Mario E quando è che l'hanno capito i tuoi genitori? Il professor papà, il professor Enzo Di Loreto E la mamma, la professoressa Maria Teresa Letta Quando gliel'ho detto io in seconda o terza media Però mi hanno suggerito da aspettare Come l'hanno presa? Mia madre è molto bene Mio padre invece ha detto Che dovevo prima verificare bene se era la mia strada E poi allora anche lui sarebbe stato contento E la tua prima destinazione qual è stata? Da sacerdote? Sì Chi ti ha ordinato sacerdote? È il Papa Giovanni Paolo II Perché il Sinodo di Roma che finì proprio in quell'anno del 93 Decise di tornare a far ordinare tutti i diaconi Non dal vicario del Papa In quegli anni era il Cardinal Camillo Ruini Ma direttamente dal Vescovo di Roma, quindi dal Papa E ti avevo chiesto qual è stata la tua prima destinazione? Dunque il primo anno, i primi mesi veramente Setteville di Guidonia Da qui poi fui spostato subito a Montesacro Dunque la tua parrocchia attuale, il Tuffello Fa parte della Diocesi di Roma E come dicevi, ricordavi adesso Il Vescovo della Diocesi di Roma è Benedetto XVI Quando hai un problema che fai? Telefona al Papa? Ci sono diversi canali Diversi gradi Di accoglienza delle richieste Di ascolto Innanzitutto c'è il Cardinale Adesso è Agostino Vallini Che è sempre però in cima Alla piramide Alla piramide Più facile, molto più facile Parare con il Vescovo di Zona Che è Monsignor di Tora Guerino di Tora Vescovo ausiliare per il settore nord Dove è la nostra parrocchia Ma hai parlato qualche volta con il Papa Con l'attuale Papa? No, con l'attuale Papa E con Giovanni Paolo II? Sì, perché all'epoca il seminario Faceva una visita ogni anno al Papa Che poi ci parlava personalmente per brevi istanti Visita che poi il Papa ricambiava Sempre puntualmente a febbraio La festa della fiducia Senti, fra i collaboratori Chiamiamoli così Della tua parrocchia C'è un polacco Un prete polacco E uno congolese Questo che cosa significa? Che sono pochi preti italiani O è la vicinanza con il Vaticano Che porta gli stranieri a frequentare Roma Oppure Roma Come anche l'Italia Sta diventando multietnica Beh, data la vicinanza della nostra parrocchia Con l'Università Salesiana È chiaro che gravitano nella nostra zona Tanti preti stranieri studenti Quello polacco l'ho richiesto io Tramite conoscenze Quello congolese ce l'ho trovato Però sono aiuti indispensabili Oggi come oggi a Roma Ma forse è sempre stato così A Roma è un po' Terra di fraterno aiuto Da parte di un po' Di tutte le diocesi del mondo Senti, il Tuffello Questo quartiere Nacque di fatto Alla fine degli anni 20 Quando furono trasferiti lì In quella zona Coloro che risiedevano In quella che poi è diventata Via della conciliazione Furono sfrattati Per far posto A questa grande strada Realizzata in quegli anni Questo Che problemi ha creato? Ma Di emarginazione Perché all'epoca C'erano pure tante baracche Proprio di fronte Di fronte alla chiesa Poi furono rimpatriati Dalla Francia Tanti da Mussolini E quindi c'è un intero complesso Si chiama Dei francesi Però era gente Insomma che poi Negli anni Ha vissuto tanti problemi Quindi Soprattutto la droga E la storia di vita Da parte Ecco dei figli Di quelli che vennero Per primi In quegli anni Ma c'è Delinquenza Usiamo questo termine Adesso Molta di meno Degli anni 80 E decenni precedenti Però nella parrocchia Ci sono i vostri edifici Che hanno le grate Di ferro Alle finestre Sempre meglio Fidarsi bene A Tuferlo Hanno girato anche dei film Il medico della mutua Con Alberto Sordi Ed è nato lì Ed è vissuto Da ragazzino Gigi Proietti Sì Era Chierichetto E poi stava sempre All'oratorio Quando l'oratorio Contava Almeno 400 persone 400 bambini E ragazzi Secondo I racconti Per una volta Concordi Di tutta la gente Adesso è un quartiere Anziano Invece Con pochi Relativamente Pochi ragazzi E giovani Gigi Proietti È stato importante Nella storia Del Tuferlo Perché ha segnato Proprio Un'intera generazione Fino a quando Poi è andato via Senti A proposito Di malavita Abbiamo sfiorato Questo argomento I recenti episodi Di criminalità A Roma Come Come li vivete Vi colpiscono Tanto infatti Con la comunità Di Sant'Egidio Partendo da Valmelaina Che è il quartiere Gemello Del Tuferlo Prima Noi eravamo Tutta parrocchia Di Valmelaina Prima del 1950 Che è l'anno Di creazione Della nostra parrocchia Quindi Un paio di mesi fa Il 17 settembre Abbiamo fatto Una marcia Antiviolenza Proprio Per dimostrare A tutti E dire Chiaro e forte Che Che sono segnali Preoccupanti Questi Dell'aumento Del far west In città E secondo te Nascerà un sacerdote Nel Tuferlo? Veramente Già c'è stata Una vocazione Don Michele Che dopo Essere stato Parroco A Via Le Libia Tanti anni Adesso sta In vicariato Leggermente Più grande Di me Però Ha fatto Il seminario Del Capranica Non il seminario Di San Giovanni Quello Il Tuferlo È un quartiere Grande Di una Grandissima Città Che paragoni Puoi fare Che confronti Puoi fare Nel Tuferlo Non c'è Più tanta vita Di quartiere Tanto senso D'appartenenza Sarà che Il corso principale Non esiste Infatti Salvano un po' I rapporti umani I cortili Che stanno In mezzo A questi Agglomerati Di case popolari Però Certamente È una Zona Molto di passaggio E ha perso Penso molto L'identità Un po' Ristretta Di quartiere Con tutta una vita Interna Che cerco di recuperare Anche Rendendo un po' La festa della parrocchia Sempre più festa Popolare Di piazza Però è difficile Senti Qui non ci sentono Al Tuferlo Come ti trovi Tu? Io benissimo Perché Se penso A quando Nell'86 87 Don Luigi Che recentemente Scomparse Il parroco Usava la pistola Sparando in aria Per allontanare Tutti i ladri Che continuamente Insomma Assalivano Le bussole Della chiesa Io poi Sto Tranquillissimo Ma questo Quando succedeva? Quanto tempo fa Succedeva? Negli anni Ottanta Il parroco sceriffo Lo chiamarono Altro che far questo Sì perché E' anche vero Che la gente Siccome Comunque In fondo In fondo E' buona E' semplice Come Una delle prime cose Che fa Per cercare Di risolvere La situazione E' andare Dal prete E quindi Da una parte C'è sempre Possibilità Pur avendo Molti poveri Di Insomma Di vivere Il Vangelo Senza poi Rischiare Quello che Invece Appunto Qualche decennio fa Hanno rischiato Veramente Gli altri Parroci Alla chiesa La domenica E' piena? In maniera Soddisfacente Direi Nonostante Tutto Però Calcolando che Poi molti Di questi anziani Abitano In palazzine Senza l'ascensore Spesso Infatti Con Con il tiro Con il cestello Si Si Portano la roba su O la Fanno scendere E poi Invece La parte Un po' più nuova Degli anni 90 E Sono torri Come quelle di Torbella Monaca 64 appartamenti 15 piani Con Uno degli ascensori Sempre rotto E quindi Capisco anche A parte Il gran numero Di ammalati Di anziani Anche qualche centenario Che poi per molti E' difficile Qualche centenario Si si Difficile Uscire così spesso Da casa E come ti accoglie La gente Come ti accoglie Le famiglie Quando fai le visite Pasquali Le benedizioni Sono sempre gradite Perché erano Una benedizione Non va mai male Certi Ma anche perché In certi casi Erano 15-20 anni Che non passava Nessuno A benedire Io appena arrivato Nella primavera Del 2006 Già Già ho fatto Una prima Passata Ma non dappertutto Perché veramente Si tratta Di un numero Esorbitante Di persone Però la gente Chiede sempre La benedizione Anche se poi Magari Aggiunge La frase Io però Non posso mai Venire in chiesa Dopo il tufello Per te Che cosa c'è? Sperando di rimanerci Più a lungo possibile Ho ancora Altri Altri Tre anni Di incarico Ah perché c'è Una durata Predeterminata Sì di nove anni Quindi io ho cominciato Adesso il settimo Altri due anni Starò Due anni e mezzo Starò tranquillissimo E sinceramente Spero che Ardentemente Che mi sia rinnovato Anche l'incarico Ma comunque Sono sempre disponibile Ad andare Ovunque Anzi io Per intervento Del Cardinal Ruini Andai a finire Qua dove sono adesso Ma In realtà Ero stato Destinato Alla Pisana Tutta altra parte Di Roma Ma Per voi parloci Che siete Nei vari quartieri Di Roma Ogni tanto Alzate lo sguardo Verso il Vaticano Pensando che Un giorno Potreste andare lì Sinceramente Non rientra Per niente Nei miei piani E poi Si tratta comunque Di un ambiente Molto particolare Anche Quasi inaccessibile Direi E poi la vera vita E quella In mezzo alla gente Forse abbiamo Molto più Rapporto E anche qualche Protesta da fare Verso il Vicariato Di San Giovanni Che è la nostra Centrale Comunque Stai bene Splendidamente Allora Abbiamo conosciuto Don Gianni di Loreto Di Avezzano Parroco del Tufello a Roma Grazie Don Gianni E grazie a coloro Che sono stati In nostra compagnia Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti.